Un gioiello vivo. La National Geographic è tenuta a Merida a fare un documentario su questi insetti. Come si chiama? Maquetsch. Maquetsch. Perché è una delle dieci cose più rare del mondo. Aspetta. Una delle cose più rare del mondo. Maquetsch. Maquetsch. Scusa. L'unico gioiello vivo del mondo. Era un amuleto per il re Maia. Un gioiello vivo del mondo.